L'idea di realizzare una televisione a livello locale, più vicina ai cittadini e al territorio, rispetto alla RAI nazionale, è nata in Piemonte all'inizio degli anni 70. Telebiella è stata la prima emittente locale in Italia. Nel video Il Piemonte in TV, promosso dal Consiglio regionale con il Corecom e realizzato da Memoro, le interviste ai personaggi protagonisti dell'emittenza locale piemontese. Il video è pubblicato su CR Piemonte TV, sezione approfondimenti.